Il fondo è stato davvero toccato, peggio di così davvero diventa difficile fare. Seppellito di gol il Foggia esce da Giuliano con le ossa rotte e con i brividi di paura di chi sa bene che di questo passo il baratro non potrà che essere una conseguenza. L'era Coletti-Vacca già vacilla, inevitabile porsi interrogativi e mettere tutto e tutti in discussione davanti a prestazioni e numeri che inchioderebbero chiunque. Eppure le cose non erano nemmeno partite male per un Foggia che paga e a caro prezzo l'imperdonabile ingenuità di chi pure dovrebbe essere tra i più esperti, ovvero di noia. Incoraggianti le prime battute della sfida del De Cristofaro dove debutta Millico che appare per lunghi tratti calciatore vero. All'ottavo il Foggia va in vantaggio e lo fa proprio con un assist dell'ex Toro che pennella sui piedi di Embalo. L'attaccante calcia sotto la traversa e mette dentro aprendo le danze e lasciando sperare in una notte felice. Il Foggia che sembra in palla equilibrato e bravo ad occupare gli spazi, naufraga però dopo che un episodio cambia l'inerzia della contesa. Di noia trattiene Gladestoni e viene ammonito il centrocampista barese, non contento, continua ad inveire l'arbitro dopo qualche parolina di troppo. Lo manda anzitempo sotto la doccia. E' lì che di fatto si decide la sfida perché cambia tutto e da quel momento in poi il dormiente Giuliano diventa un leone che rugisce continuamente sulle pecorelle smarrite con la casacca rossonera. I padroni di casa ci provano al venticinquesimo con Desena la cui conclusione non inquadra lo specchio. Poco dopo il tentativo porta la firma di Gladestoni ma la mira è imprecisa. Il gol che rimette le cose a posto, i campani lo segnano al trentaquattresimo. Dalla sinistra Iabre crossa, Ciufferri colpisce al volo anche se non in maniera perfetta ma tanto basta per ingannare Nobile e fare uno a uno. Insiste il Giuliano che prima dell'intervallo ci riprova con una conclusione a giro di Ovisac. Palla alta, sempre Ovisac al quarantatresimo impegna Nobile, il portiere respinge e poi è Rizzo ad allontanare la minaccia. Nella ripresa sono sempre i campani a menare le danze. Minuto 47, Ciufferri se ne va in serpentina, salta i birilli della retroguardia rossonera ma sul più bello calcia fuori lasciando tirare un sospiro di sollievo a Nobile. Per i campani illusione del gol al sessantatresimo quando Gladestoni calcia e colpisce l'esterno della rete. Il Foggia, nonostante tutto, mantiene la luce accesa ma il blackout finale è da film horror. All'ottantunesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo è Sorrentino di testa a prendere il tempo a tutti e mettere dentro. Sorpasso effettuato ma il peggio deve ancora venire. Passano 5 minuti e il Giuliano cala il Tris su un apparente innocuo cross dalla destra. Nobile respinge in maniera maldestra e Sorrentino di prima intenzione mette dentro chiudendo definitivamente i giochi. Non basta però, la notte del Foggia diventa ancora più amara nel primo minuto di recupero quando ancora Nobile decide di avventurarsi in controlli e dribbling che non sarebbero nelle corde di un portiere. Ed infatti perde palla e consente anche a Baldè, un ex, di mettere la firma. 4-1, peggio di così. È davvero difficile fare. Sono qui per il nome di tutta la squadra, per prenderci le nostre responsabilità. Chiediamo scusa ai tifosi, alla società, a tutti. Non voglio parlare della partita, sappiamo dove abbiamo sbagliato e chiediamo ancora scusa a tutti.